competere una nuova iniziativa di casa.it dedicata al mercato immobiliare di roma un ciclo di interviste con professionisti della capitale per fornire agli agenti immobiliari informazioni idee e strumenti per competere con successo anche nel mercato romano ospite di oggi paolo leccese agenti immobiliari di lungo corso ma anche esperto di comunicazione e appassionato di digitale buongiorno paolo e grazie per essere qui con noi buongiorno buongiorno a te grazie grazie girato allora paolo partiamo subito con le tre domande prima allora tu sei un agente immobiliare ormai da tanti anni ma hai un'attenzione particolare al digitale alla tecnologia le persone secondo te sono davvero pronte ad adottare il digitale nella compravendita di casa e gli agenti beh guarda nell'ultimo anno c'è stato sicuramente una spinta verso l'evoluzione tecnologica nel mercato immobiliare in genere e oggi ad esempio si parla di smart contract e di firma digitale con molta più semplicità anche verso i clienti verso il mercato coloro i quali magari fino a un paio d'anni fa vedevano questa come una forma strana e comunque con poca fiducia devo dire che uno non ha meriti la pandemia ma se proprio vogliamo trovare qualcosa di buono in tutto questo periodo c'è sicuramente il fatto che c'è stata una spinta necessaria verso la costruzione di processi digitali attraverso ad esempio l'aiuto della tecnologia nel caso dei contratti firmati a distanza e digitali gli agenti un po' spinti dal basso cioè dalla domanda che nel frattempo ha migliorato la propria esperienza di uso dei sistemi che fino a quel momento magari preso d'altro non sviscerava pieno immagino per esempio al modo di cercare gli immobili sui portali avendo tanto tempo mi ricordo di aver ascoltato e dichiarazioni rese da da persone molto più autorevoli di me che dicevano che la ricerca era molto ma molto più focalizzata ad esempio sulle planimetrie piuttosto che sui virtual tour i virtual tour proprio la nuova tecnologia in aiuto degli agenti immobiliari che possono dare una grande grande mano per ridurre il numero di cioè il tempo che si perde ad esempio nelle 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 visite credo che gli agenti immobili oggi appunto spinti dal basso quindi dal mercato e spinti dall'alto cioè dai fornitori di servizi digitali si trovano in una bella morsa in cui devono necessariamente evolvere e credo che lo stiamo facendo bene insomma ok c'è una questione ancora tecnologica legata alla casa no c'è una recente indagine di casa punto it proprio sul mercato di roma che evidenzia che il 46 per cento degli intervistati sostengono che la che la connessione internet veloce è leggo un aspetto rilevante nelle dotazioni tecnologiche di casa questi aspetti secondo te sono anche determinanti nella valutazione di un immobile o lo saranno secondo me lo sono già in questo periodo sempre di più immaginiamo per esperienza insomma sento che le persone chiedono questo smart working smart schooling comunque impongono necessariamente immaginate una famiglia dove sono due persone che lavorano in smart working due ragazzi che studiano con la dad in questo periodo hanno bisogno di una connessione importante se stanno cercando casa si pongono la questione come diciamo questa questione della velocità di trasmissione dei dati è qualcosa di veramente importante ma non solo perché l'evoluzione ci porterà ad avere sempre più contenuti streaming guardate cosa sta facendo netflix amazon con prime piuttosto che apple quindi comunque c'è tanta tanta domanda di servizi online il fenomeno del gaming che è molto diffuso e che sta dando il gaming online mi riferisco a quello in particolare che comunque genera genera degli interessi e anche tanto lavoro ho scoperto avendo dei figli adolescenti c'è tanta gente che lavora in questo mondo del gaming e quindi sai la richiesta la ricerca di casa poi passa anche da diciamo si valuta anche questi aspetti almeno finché il 5g non prenda diciamo piede al massimo o lo sciame di satelliti promesso da elon musk non ci non ci porti ad avere una connessione capillare in tutto il territorio mondiale roma non sta messa così male devo dire la verità immagino che negli 8.000 comuni d'italia ce ne siano tanti messi tanto tanto peggio però insomma è sicuramente un elemento di scelta nelle nella votazione dell'immobile sicuramente un elemento di votazione importante ecco ma secondo te questo tipo di dotazione insieme ad altre potrà essere incidente proprio sul valore dell'immobile cioè quando un cliente ti chiederà una valutazione di casa il fatto di avere n dotazioni tecnologiche tra cui anche una connessione veloce potrà in qualche modo incidere sul prezzo di valutazione credo oggi non oggi ancora non credo che ci sia questo che possa dare un incremento nel valore immobiliare percepito cioè pago di più per avere una connessione maggiore questo non credo che sia un dato che possa essere messo in relazione con il prezzo sono sicuro che però se devo scegliere a parità di prezzo se devo scegliere un immobile dove c'è una connessione veloce o dove non c'è inevitabilmente scelgo quello dove c'è però ripeto non credo che incida nella valutazione cioè non può valere 10.000 euro di più un immobile che ha una connessione ma sicuramente io Paolo e per la mia famiglia sceglierei una casa con una buona connessione anche in ottica futura certo insomma quindi questo millantato ritorno nei borghi abbandonati insomma per ripopolarli probabilmente rappresenta un po' una sfida considerando insomma che la banda larga non arriva proprio dappertutto sicuramente sicuramente sì ma ripeto spero che con l'avvento delle nuove tecnologie nelle nuove tecnologie quindi anche nella connessione internet mi riferisco al 5g magari anche alcune zone diventino ben servite certo allora abbiamo parlato quindi di digitale legato proprio alla compravendita di casa abbiamo visto che sia i clienti sia gli agenti immobiliari in qualche modo stanno andando verso un utilizzo intenso intensivo del digitale abbiamo visto che insomma le dotazioni tecnologiche anche per la casa sono rilevanti anche se non determinanti ancora sulla valutazione del prezzo ora ti porto come terzo aspetto invece sul tema degli investimenti immobiliari approfitto di questa tua competenza anche legata agli investimenti immobiliari all'estero ma ti tengo saldamente fermo su Roma quindi investimenti immobiliari e mutui trentennali secondo te l'acquisto di casa è percepito come un asset o la tradizione che ci lega al mattone è un pericolo per i nostri risparmi a Roma come risponde? Allora faccio riferimento a un'indagine che ho letto qualche tempo fa pubblicata da un noto franchising e il dato che mi ha sorpreso molto è che per l'83% delle compravendite registrate nel primo semestre del 2020 a Roma sono state prime case quindi soltanto il 17% ha dato investimento ma non finisce qui perché il dato sorprendente è che nel Lazio quel 17% di investimenti immobiliari è un numero altissimo cioè in molte altre aree del Lazio è il numero legato alle compravendite in prima casa è molto più alto dell'83% quindi ritengo che l'italiano continua in questo suo trend o quantomeno il romano continua in questo suo trend dell'investimento come seconda o terza scelta nel mattone quindi intanto si compra la casa per viverci si compra la casa per vivere ai propri figli e quella rimane rimane una certezza spero che questo trend cambi nel senso per il bene del paese perché avendo l'esperienza all'estero vedo paesi molto con l'economia molto più florida quando il mattone non è così al primo posto dei propri asset però ho registrato questo e posso dirti che anche nell'esperienza di agente immobiliare che vivo quotidianamente la maggior parte delle compravendite le faccio per chi compra una prima casa certo certo ok insomma insomma anche questo amore continua a restare saldo ecco in qualche in qualche modo assolutamente paolo grazie mille quindi per il tuo intervento il tuo contributo sicuro di vederti presto di persona a roma d'accordo anche io anche io grazie mille ciao a voi tutti che ci avete seguito grazie per l'attenzione e vi aspettiamo in occasione del prossimo video sempre grazie a casa.it per competere sempre meglio nel mercato immobiliare a presto